Il nostro pianeta è diviso in quattro componenti, dette sfere. Abbiamo l'atmosfera, che è l'involucro d'aria che circonda la Terra, l'idrosfera, l'insieme delle acque degli oceani, dei mari, dei laghi, dei fiumi, acque sotterranee e vapori. Poi c'è l'itrosfera, l'insieme delle rocce solide che formano i continenti fondali e oceani, e la biosfera, che sono tutti gli organismi viventi, compresi gli esseri umani. Sistema Terra è uguale ad atmosfera più idrosfera più litosfera più biosfera. Le sfere sono elementi collegati tra di loro, avvengono continui scambi di materia ed energia, e si chiamano cicli trasformazione della materia avviene tra le sfere. Quindi, ad esempio, prendendo l'atmosfera, l'idrosfera, la litosfera e la biosfera, possiamo vedere che i venti levicano le rocce o provocano onde che sgretolano le rocce, e c'è uno scambio di energia tra questi elementi. L'atmosfera è un involucro di gas che avvolge la Terra, è fondamentale per la vita, e contiene l'ossigeno, protegge dalle radiazioni solare dannose, protegge dai meteoriti, e mantiene l'aria calda. L'aria che respiriamo è una miscela di gas, è la parte di atmosfera più vicina alla superficie terrestre, di circa 80 km. C'è aria umida, dove c'è azoto, ossigeno e anidride carbonica, e anche altri gas, e vapore e acqueo. Mentre la parte dell'aria secca, c'è azoto, altri gas, ossigeno e anidride carbonica, senza vapore e acqueo. E pulviscolo atmosferico. Piccole particelle che possono essere nocive. L'azoto è l'elemento più abbondante nell'aria, è l'elemento meno reattivo. L'atmosfera può passare, nell'atmosfera appunto, può passare nutrimento delle piante, come possiamo vedere, dall'atmosfera alla terra. L'ossigeno è l'elemento più reattivo, produce delle reazioni con la respirazione, con la combustione, e produce anidride carbonica. gas importante per le piante. Quindi acqua più anidride carbonica producono zuccheri, amidi, cellulose. E questo fenomeno è detto della fotosintesi clorofiliana. L'anidride carbonica impedisce al calore di disperdersi nello spazio. L'atmosfera è legata alla terra per forza di gravità. Maggiore forza si trova nel centro della terra, minore forza se ci si allontana. Oltre, una certa distanza, si verifica che le particelle di gas si dissolvono. Salendo diminuisce quindi la temperatura. ci sono cinque strati o sfere. Quindi, per cui, la temperatura e la densità cambiano passando da uno strato all'altro. Dove ogni passaggio è chiamato pausa. l'esosfera è lo strato di passaggio allo spazio interplanetario. Le particelle sono rifatte. Poi c'è la termosfera dove avvengono le aurore polari e sta a più di mille gradi centigradi. Poi c'è la mesosfera che è la stessa composizione dell'aria che respiriamo. I gas sono rifatti la sua temperatura è a meno 90 gradi. La stratosfera caratterizzata dalla presenza di ozono detta infatti ozonosfera. L'ozono protegge gli organismi dai raggi del sole e da temperature molto elevate. la troposfera è a meno 50 gradi a una temperatura molto bassa e comprende tre quarti dei gas dell'atmosfera. All'interno ci sono fenomeni atmosferici e poi c'è il suolo. L'atmosfera riscaldamento della terra. Allora non tutti i raggi del sole riescono a riscaldare la terra senza gas e serra la superficie della terra misurerebbe meno 20 gradi invece misura 15 gradi. il sole con i suoi raggi diffonde calore e luce e i raggi del sole vengono aspirati dai gas e da nuvole dopodiché possiamo vedere che la superficie terrestre assorbe i raggi del sole e li rimette sotto forma di raggi infrarossi e li percepiamo come calore. I raggi infrarossi vengono emessi verso lo spazio oppure alla bassa quota dell'atmosfera ci sono i gas serra che rinviati verso la terra vengono rinviati dai gas serra verso la terra questi raggi poi c'è nella bassa quota dell'atmosfera vapore acqua e anidride carbonica e altri gas l'effetto serra se noi prendiamo una serra possiamo vedere che fuori fa freddo i raggi vengono riflessi ma entra nella serra parte dei raggi solari che riscaldano il suolo e li vengono emessi i raggi infrarossi che rimangono all'interno garantendo calore mentre i raggi infrarossi che escono inquinano e producono gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale la temperatura dell'aria diminuisce all'aumentare della latitudine quindi spostandosi dall'equatore verso i poli questo perché spostandosi appunto dall'equatore verso i poli aumenta l'inclinazione con cui i raggi colpiscono la superficie terrestre si riduce la quantità di calore per ogni centimetro quadrato di superficie la temperatura dell'aria diminuisce all'aumentare dell'altitudine a quote elevate l'aria è meno densa e assorbe meno raggi solari 3 la temperatura dell'aria vale in base alle ore di luce più tempo la superficie terrestre è esposta al sole più assorbe il calore e più alta la temperatura il numero di ore di luce cambia da stagione a stagione infatti ci sono stagioni più calde e stagioni più fredde inoltre la temperatura dell'aria varia in base alla presenza di terra o acqua proprio perché la terra assorbe e anche l'acqua assorbe energia e calore le acque si riscaldano e si raffreddano più lentamente della terra un esempio sono le zone costiere pertanto vicino alle acque c'è un clima molto più caldo e mite possiamo vedere che la vegetazione assorbe calore che non c'è dal terreno emettendo umidità e sono più fredde poi c'è invece l'asfalto assorbe calore ma rilascia raggi ultravioletti e quindi sono zone molto più calve poi vediamo i tipi di nuvole ci sono le nuvole grigie che sono fatte a gocce d'acqua e bianche invece che sono costituite da cristalli di ghiaccio le nuvole più alte sono dette cirri sono nuvole più alte e formano delle file parallele come in questo caso poi ci sono i cirro cumuli che sono le nuvole più alte ma più piccoline scendendo di quota i cirro cumuli sono costituiti a greggie di pecora e portano la pioggia poi scendendo abbiamo i cirro strati dove ci sono dei cirri su strati sottili possiamo vedere e poi i cumulo lembi sono nuvole scure come delle torri e gli altocumuli sono gli altostrati e gli stratocumuli e dei nembo strati altostrati strato cumuli e nembo strati queste sono le varie tipologie di nuvole scendendo di quota fino ad arrivare ai cumuli dove sono delle nuvole tipo dei batuffoli come possiamo vedere e infine ci sono le nubi basse sono delle strati di nuvole basse e grigie a forma spianata che possiamo vedere in basso le precipitazioni allora le nuvole si scontrano e si ingrandiscono all'interno delle nuvole queste goccioline di acqua si appesantiscono e precipitano come pioggia la stessa cosa avviene con i cristalli di ghiaccio che precipitano come neve i cristalli si aggregano e formano la grandine la neve invece sono cristalli a 6 punte la grandine sono granule di ghiaccio da 5-50 mm e poi il pluviometro è uno strumento per misurare la pioggia si misurano in millimetri su un metro quadrato la precipitazione di un millimetro su un litro all'anno che sono 500 mm l'anno 500 litri su un metro quadrato le precipitazioni in un anno in Italia sono di 1000 mm maggiori precipitazioni si hanno nelle alpi carmiche apuane nell'appennino ligure e poi ci sono le piogge acide che sono piogge dovute all'inquinamento si immette azoto e ossidi di zonfo che reagisce col vapore acqua e si trasforma in acido cadono come piogge acide rovinando le piante i fiumi e i pesci all'inquinamento